è assolutamente necessario salvaguardare gli insetti impollinatori più del 40 per cento delle specie di invertebrati in particolare api e farfalle che garantiscono l'impollinazione rischiano di scomparire in particolare in europa il 9,2 per cento delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35 per cento della produzione globale di cibo per questi motivi il parco nazionale del cilento vallodidiano e alburni è impegnato in un progetto chiamato insetti impollinatori biodiversità e servizi tale progetto mira a contrastare il declino degli insetti impollinatori riconoscendone il ruolo insostituibile per gli equilibri ecosistemici grazie a tutti grazie a tutti